Abbiamo, ringrazio per la collaborazione. Attenzione, tremo in passito al binario 7, allontanarsi dall'attività. Attenzione, si ralenta, permetta a compiere le porte esterne di tre di Mosaviro, per aspettare quando non sono completamente veri. Attenzione, tremo in passito al binario 4, allontanarsi dall'attività, Attenzione, tremo in passito al binario 4, allontanarsi dalla e-2, Il terreno subcutato è 2,3,4,2,4,1,3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Il terreno subcorsionato. Allontanarsi dalla linea andata, firma A, Milano Lavorare. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.